Cari amici di Letture di Metropolitano, ho il piacere oggi di raccontarvi un concetto molto particolare di un artista sui generi in un contesto altrettanto peculiare. A riguardo, prima di iniziare il racconto di questo evento, si impongono due premesse. La prima è che spesso io parlo sempre di eventi, di libri che mi piacciono molto e questa cosa potrebbe essere quasi considerata in controcanto rispetto alla facile tendenza alla stroncatura. La stroncatura per me è non parlare delle cose che non mi piacciono, cioè c'è tanto caos, rumore, polemiche, spesso anche di livello abbastanza banale, che preferisco parlare di cose che secondo me sono valide e degne di attenzione e in particolare, forse a buon gusto e intuito, vado a eventi che poi quasi sempre si rivelano degni di attenzione e quindi confermano l'intuizione. Nella fattispecie, devo dire che io sono andato a questo concetto di Morgan al teatro Garbatella, accanto devo dire a un locale particolarissimo, non sono pagato dai proprietari, ma lo dico solo perché è effettivamente un locale degno di essere visitato per il decor così divertente e curato, ovvero il Pulp Restaurant, un locale che ricostruisce la cameretta di un ragazzino degli anni 80, 80-90. Ebbene, in questo piccolo teatro si è svolto questo concerto di Morgan, al quale, come accennavo, io mi ero approcciato con un po' di scetticismo e perplessità, perché ovviamente sappiamo quanto Morgan sia un personaggio controverso e sappiamo anche come spesso la vita tormentata da polemiche e varie problematiche, che a volte, nei racconti che mi hanno stati fatti, avesse in qualche modo intaccato la sua performance. Ecco, il concetto è stato bellissimo. È stato un concetto bellissimo. E altra premessa scontata, vi sono già scontata dal fatto che ne sto parlando, io non credo sinceramente che uno debba boicottare o non parlare di artisti, in questi giorni più liberi più liberi c'è stata questa polemica, c'è questo susseguirsi di artisti che decidono di non andare o meno, alcuni anche persone che stimo e che considero amiche, degne di stima, quindi massimo rispetto per la loro decisione, ma io sinceramente credo che vada separato quello che è il contributo di un artista da quella che è la vicenda, l'eventuale vicenda giudiziaria che lo riguarda. Altrimenti non dovremmo vedere un film di Roman Polanski, gli esempi sono stati fatti talmente tante volte che è quasi ripetitivo farli. Detto questo, Morgan ha aperto questa sua esibizione in questo piccolo teatro in cui c'erano delle persone a lui molto vicine, amiche, c'era ad esempio Fulvio Abate, l'intellettuale che insomma un po' profeticamente col termine amichettismo aveva delineato alcune dinamiche che appunto sono stati un po' il caso sbelli di questi giorni, c'era Prino Stebbioli, c'era la figlia Anna Luca Stoli, insomma era un ambiente molto raccolto, familiare e intimo e questo probabilmente ha anche ispirato Morgan a un concetto veramente di livello molto alto, chiaramente intervallato, ma fa parte del personaggio, da una sorta di sua aringa difensiva all'inizio del concetto, dopo aver suonato, dopo aver aperto il concetto con una intensa interpretazione del, se non sbaglio, secondo movimento del concetto in sol minore di Ravel, giusto per farvi capire subito l'impatto e il livello, Morgan ha iniziato ringraziando il pubblico, no? e ringraziando il teatro che l'ha invitato, perché appunto in questo periodo il suo nome è pressoché bandito per appunto le polemiche conseguenti a le vicende che conosciamo e quindi ha ringraziato facendo questa aringa difensiva, ovviamente prodomo sua, ma dicendo anche delle cose, secondo me in generale facendo delle riflessioni sulla cultura italiana su una certa atmosfera culturale che secondo me sono senza dubbio valide al di là della sua difesa personale e al di là del suo caso. Questa sua alternanza tra interpretazioni e interventi è stata un po' il light motive della serata, ma questa è una sua caratteristica soprattutto nei concerti quando lui è da solo al piano, però appunto riprendendo una battuta di uno spettatore non si è trattato di uno spettatore piano bar, si è trattato al contrario di qualcosa a metà tra una lezione di storia della musica italiana e una confessione di un artista. All'interno anche l'atmosfera, devo dire, è molto giocosa, lui ogni tanto beveva del Moscato Tasti giocando appunto sul fatto che avrebbero fatto le foto facendo vedere che lui è un alcoolizzato, facendo anche una battuta molto colta, nel senso dicendo vabbè ma poi umani che ne sapete e poi ha spiegato che stava citando. L'unico video, l'unica intervista video al grande Tommaso Landolfi. Io devo dire, non voglio fare l'intellettuale da quattro soldi, ma andare comunque a una serata che si apre con una sonata di Ravel e con qualcuno che cita Tommaso Landolfi e anche altre figure e ne parla dicendo cose sensate, non è banale. Quindi, ripeto, poi le vicende giudiziarie sono a parte e se chiunque abbia sbagliato pagherà secondo la legge, ma il contributo artistico di Morgan, almeno di Aristide, è stato di altissimo livello. Soprattutto ha testimoniato una sua fenomenale abilità proprio di un musicista vero che conosce la musica, al di là del gioco, del look così un po' mozzertiano, un po' vampiresco, a metà tra un dandy bodelleriano e riffraff di Yo' Giorgio Pitcher Show, soprattutto quando a un certo punto ha cantato un giudice, la canzone sul nano, cattivo, vendicativo di De André, quindi sembrava veramente nella postura il maggiordomo che poi si rivela, a chi non ha visto Yo' Giorgio Pitcher Show non voglio rovinare la sorpresa. Poi appunto aveva anche questi accenti giocosamente sinistri, ma al di là dei vari personaggi che lui ha interpretato giocosamente all'interno del suo concerto, si è vista veramente la felicità, in senso etimologico, di un artista, per quanto infelice magari nella vita privata, ma felice di condividere il suo talento, la sua arte e la sua enorme dedizione e passione per la musica. Vi faccio un esempio per farvi capire come si è svolta la serata, a un certo punto lui ha detto, stiamo a Roma, ogni volta che vengo a Roma mi viene in mente questo, e ha cominciato a accennare e a variare in maniera molto fiorita e talentuosa sulle note della sigla del Costanzo Show, e penso a te, forse si chiamava, scritta da Bracardi, elogiando anche Bracardi come musicista, che ovviamente è uno che improvvisava, accompagnava, un talk show così vivace, imprevedibile, e partendo da questo spunto improvvisato ha fatto una riflessione molto colta, intelligente e pertinente sulla musica italiana, spiegando addirittura dalle radici dell'armonia, della progressione armonica di Scarlatti, poi inserita questa armonia tipica dei classici italiani, addirittura da Schumann, come nell'Ottocento, tra le regole, di un musicista degno di essere chiamato in questo modo, proprio la conoscenza di questa sapienza della progressione degli accordi tipica della musica classica italiana, ha spiegato come queste cose si ritrovano anche nella musica di Baglioni, ha giustamente, secondo me, scagliato degli strali facili ma giusti contro il mal gusto dominante, dicendo appunto che con l'intelligenza artificiale tu puoi fare delle canzoni che diventano quelle di Marco Mengoni, ha detto non è che ce l'ho con Marco Mengoni, ha fatto diversi nomi Marco Mengoni, Annalisa, Noemi, sono canzoni fatte con Tercodi, eccetera, eccetera. A quel punto ha detto giudicate voi e ha cantato alcune canzoni che sono state scattate da Sanremo, da Amadeus, ha fatto anche una divertentissima e nemmeno troppo malevola imitazione di Bugo, ma ha cantato alcune delle sue ultime composizioni, quella famosissima su Yutti, sulla musica contemporanea italiana fatta di Yutti e ad esempio per farvi capire quanto fosse ispirato e quanto fosse nella zona, si direbbe, di un tennista che è nel momento di massima ispirazione, quando a un certo punto una canzone dice l'arte non abbastanza, mi ha rotto, eccetera, eccetera, il cielo in una stanza, ha cominciato a cantare anche al pianoforte in una versione molto sentita, il cielo in una stanza di Gino Paoli, come successivamente ha fatto una bellissima versione straziante preceduta da un omaggio sentitissimo a Luigi Denco, con cui chiaramente c'è una sorta di gioco di transfert, no? Ma anche comprensibile come figura di emarginato, come talento invidiato, eccetera, dallo star system dell'epoca, ha cantato appunto la straziante bellissima Vedrai Vedrai. Ma oltre a questa canzone Ruti, non mi ricordo adesso il titolo esatto, ma quella insomma che è uscita maggio scorso, ha cantato, secondo me, una canzone geniale che io ho perso, canzone che è stata appunto scattata da Saremo, non solo canzone molto complessa dal punto di vista musicale rispetto alle canzoni di Saremo, ma una canzone che secondo me offre una riflessione proprio sul ruolo della musica e dell'arte, perché è una canzone che è di grande sincerità, di grande autenticità, perché purtroppo tutto quello che dice Morgan nella canzone è vero, cioè che ha perso la voce rispetto a quando ha ragione, ha perso la dignità civile dopo tutte queste scandali e controversie, ha perso tutto, ma meravigliosamente questa canzone è scritta quasi come una marcia trionfale e quindi in realtà il potere trasfigurante dell'arte, della musica, di tramutare la miseria, l'infelicità, l'esistenza umana in qualche cosa di bello, secondo me è una, nella formula chiaramente, comunque per quanto complessa, semplice, di una canzone popolare, secondo me è un piccolo, grande capolavoro del cantautorato italiano. E poi ovviamente ha concluso con il suo brano, in realtà non ha concluso, ne ha fatto anche altri brani, ma si è concesso a un bis con una versione a pianoforte della sua canzone più significativa, anche un po' tristemente profetica, ma secondo me bellissima, altrove, anche perché in altrove c'è già nell'intro un dublice omaggio a due delle grandi, diciamo, influenze di Morgan, cioè da un lato il basso riprende Absolute Beginners, di Terry Bowie, grande modello, ha anche interpretato Life on Mars, al piano, a un certo punto non si ricordava i versi, uno mi sono permesso di ricordarglielo io e poi urlando dal palco, dalla platea, ma poi l'hai cantata tutta perfettamente. E oltre a Absolute Beginners, però, c'è anche una citazione da un noto brano di Mina, quindi da un lato appunto la grande tradizione degli anni Sessanta, delle grandi melodie italiane arrangiate, credo, non vorrei sbagliare, ma quel brano probabilmente è stato arrangiato da Regno Morigone, anche comunque se non lo è stato, parliamo di quell'atmosfera, di quel momento musicale, e poi appunto la grande tradizione, il grande modello geniale, camaleontico di Bowie. Abbiamo detto della copia di Luigi Denco, abbiamo detto di quella di Fabrizio Di Andrea, abbiamo detto di quella di David Bowie, ha concluso giocosamente con Arrivederci, era bellissimo perché Morgan praticamente diceva una parola, lì veniva in mente una canzone e la suonava piano forte, con queste variazioni però, quindi non c'è una vera e proprio scaletta, è stato molto bello vedere un artista così tormentato essere così felice di condividere la sua arte. Io poi ho avuto l'occasione di salutare, di scambiarci qualche parola dopo nei pressi del camerino, devo dire, è stato anche uno scambio molto cordiale, garbato e molto gentile, si vedeva insomma che era in un momento di felice appagamento. Questa cosa, e chiudo con una nota non polemica ma forse amara, fa aumentare i rimpianti chiaramente, perché un artista in grado di regalare un concerto così bello, nonostante tutto, nonostante tutto quello che sappiamo, sarebbe potuto veramente essere ancora più grande, ancora più significativo, ancora più di impatto, visto che comunque la scaletta è sì impreziosita da brani recenti ma è comunque fatta di cover di altri artisti o di brani di molti anni fa. Non dico questo per essere né moralista assolutamente né benpensante, dico soltanto mannaggia a te Morgan, potevi veramente essere e speriamo che lo sarai nuovamente ancora di più uno degli autori più prolifici e fecondi e ispirati della musica della storia recente della musica italiana visto appunto poi il deserto sconsolante tristissimo di conformismo di piattume che quasi sempre a parte poche eccezioni che proviamo sempre a segnalarvi di fatto si è instaurato in un mondo come quello della musica italiana che in realtà fino a poco tempo fa aveva espresso dei talenti superlativi mi viene da fare una scontatissima analogia nazionale popolare con lo stato della nazionale italiana ma di calcio ma speriamo appunto che Morgan torni invece a essere vincente come sinner e non come dire claudicante come la nazionale italiana non nell'immediato recente ma insomma nelle ultime grandi manifestazioni quindi prossima volta che c'è un concetto di Morgan a Roma vi auguro di essere fortunati come lo sono stato io speriamo che ce ne saranno ancora e ripeto questo non c'entra nulla con quello che è il caso giudiziaio o le riflessioni che si possono fare di altro genere sociologico eccetera eccetera secondo me e chiudo circolarmente la riflessione il problema della pur sacrosanta sensibilità su alcuni temi è che quando delle istanze sacrosante diventano degli slogan c'è una morte del pensiero e quindi è esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare un intellettuale ma anche non un intellettuale ma una persona intelligente cioè ragionare per slogan crea un'omologazione e l'omologazione non può portare alla libertà e non può portare a un miglioramento della società che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.